I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno catturato un pericoloso latitante, considerato uno degli elementi di spicco della criminalità regina ed in particolare della comunità Roma che ha attualmente il predominio territoriale sulla zona del quartiere Ciccarello. L'operazione delle Fiamme Gialle ha anche permesso di denunciare altre cinque persone, fiancheggiatori del latitante, che gli avevano assicurato sostentamento e rifugio attraverso una fitta rete di vedette e di guardaspalle, inoltre di sequestrare numerosi veicoli ritenuti oggetto di furto o non in regola con le disposizioni del Codice della Strada, oltre naturalmente a denaro contante di dubbio provenienza. L'uomo è ritenuto responsabile di aver partecipato ad un'associazione finalizzata, tra l'altro, al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso nell'ambito della cosca Borghetto-Latella, dominante nel quartiere di Reggio Calabria Sud. Le indagini, infatti, hanno consentito di appurare che l'organizzazione si avvaleva, specialmente per il compimento delle più efferrate attività criminali, della locale comunità Roma, utilizzando un sistema di Dout Des, legittimando la loro presenza sul territorio e garantendogli anche un'autonomia di azione, privilegio di cui non avevano mai goduto prima.